Credo che siamo già oltre 100 punti vaccinali in Sicilia e quello di Brolo era una tappa già prevista, necessitata dal contesto anche geografico, perché non servirà soltanto la comunità locale, ma anche quella dell'area circostante. L'obiettivo è convincere quante più persone possibili a vaccinarsi, perché solo quella è la strada per uscire definitivamente da questo tunnel. Io credo che noi se continuiamo con questo tasso, oggi abbiamo superato la media nazionale di vaccinati, se continuiamo con questo tasso, entro settembre potremmo dire di avere immunizzato quella maggioranza di siciliani che poi consentirà la cosiddetta immunità di Grece. Certo, fino a quando non avremo completato anche il richiamo del vaccino per le fiale che non sono monodose, dobbiamo tutti sentirci responsabili a mantenere una condotta improntata al rispetto delle norme.